A Giarre la prossima sarà una notte lunga e difficile, quella in cui Angelo Danna e Tania Spitaleri dovranno definire gli assessori designati ed eventuali apparentamenti. Domani alle 12 tutto dovrà essere consegnato alla segreteria del comune. Un'ora prima Tania Spitaleri ha convocato una conferenza stampa per annunciare le decisioni prese. La tendenza da una parte e dall'altra sembra quella di non procedere ad apparentamenti ufficiale. I due contendenti puntano però a strategie diverse. Città Viva vuole capire se è possibile con la coalizione di Salvo Vitale aprire un ragionamento. Sul fronte Tania Spitaleri è invece già stato avviato un tentativo di scouting individuale, provando ad allargare la propria base di sostenitori. Al ballottaggio conta molto la capacità di motivare i propri supporter, i più non coinvolti dalle elezioni al Consiglio Comunale. Finora nessuna decisione è stata presa e le prossime ore saranno già dense di attesa.